Sai dove puoi acquistare tutto, ma proprio tutto per gli animali? Alla Tartaruga, naturalmente! Da noi trovi gli accessori e i mangimi per gli animali di tutte le razze, anche per galline e conigli. La confezione da 20 kg di dog per cani costa solo 15 euro. Inoltre, alla Tartaruga ti aspettano cuccioli di tante razze diverse, roditori ed uccelli. Ci occupiamo anche di acquariofilia e il settore pesca è assortito con le migliori marche, Trabucco, Colmich, Shimano, Daiva, Yuzuri e in esclusiva tutta la gamma Yamashita. Troverai anche Escaviva e una vasta scelta di artificiali per lo spinning. Non perdere le grandi promozioni del settore pesca. Molinello a soli 10 euro. Canna Molinello più filo a partire da soli 10 euro. Sconti del 20% sugli articoli da pesca. Ti aspettiamo nel punto vendita Diavola in via Rapisardi 3, a Noto in via Napoli 52 e a Siracusa in via Le Paolo Orsi 37.